E' bene sì, bene sì, ci siamo! Abbiamo fatto anche lo scorso anno con Raffaella, fine stagione, ma mi sa tanto che non è fine stagione, perché se qui a Camigliatello le neve va via noi ci spostiamo in continua riga per continuare le progressioni di raffiche che è combinata praticamente in una zuppetta. Eccoci qui al 23 marzo ancora sulla neve, ancora a divertirci e poi oggi è un prefestivo, possiamo chiamarlo, perché oggi è sabato, domani si farà festa a Monte, a Camigliatello Silano. Approfittiamo di questa giornata di sole, di queste splendide giornate di sole. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!